Dopo il gala di apertura della prima serata, il Festival di Castelfidardo è entrato nel vivo del ricco programma musicale. A mitigare il clima oramai invernale in Piazza della Repubblica sono le calde note di Igor Fuerzov, il grande docente e direttore d'orchestra uzbeko. Nel fantastico sipario degli aperitivi fidardensi, tanta birra artigianale di ottima fattura offerta dal clan della bottega della birra. Cultura musicale e cultura del gusto si fondono in un armonico connubio. Cultura musicale e cultura della birra. Cultura musicale e cultura della birra.